Un grandissimo successo per lo chef stellato William Zonfa a Shanghai nella decima edizione di Italian Cuisine Wines World Summit dove lo chef Heinz Beck, tre stelle Michelin del ristorante La Pergola di Roma ha anche mandato un messaggio a tutti gli aquilani. Fantastica rappresentanza aquilana qui a Tiananmen, sei stato davvero bravo. Grazie amico mio. Tanti auguri a tutti gli aquilani. All'Aquila. Migliaia di persone hanno affollato l'hotel Parcaiat dove si è svolto l'evento con le eccellenze gastronomiche italiane. Lo chef Zonfa è stato l'unico a rappresentare l'Abruzzo. Il mio territorio, ha detto, è la ricchezza che mi porto in giro per il mondo. Sono orgoglioso dei miei studi all'Istituto Alberghiero di Roccaraso e voglio far conoscere ai paesi esteri le meravigliene gastronomiche dell'Abruzzo e l'evoluzione dei piatti basati sulla qualità e la sapienza italiana. William Zonfa a Shanghai si è esibito in uno show cooking realizzando un aperitivo con cialda di riso soffiato al nero di seppia con tartare di tonno rosso, limone e timo, adorno di spuma di stracchino. Per la cena di gala riservata a 100 invitati tra personalità, giornalisti specializzati e detti ai lavori, lo chef Zonfa ha realizzato un secondo piatto, un manzetto in riduzione di montepulciano d'Abruzzo con purea di patate all'olio d'oliva, timo e limone.